Siamo con Antonio Messina, celebre paninaro di Gioammare, se vogliamo dirlo usando un gergo. Antonio, spegnere la musica a luna di notte che significa? Significa far perdere molti clienti, molto lavoro a tutti i locali, perché la gioventù non è come una volta che verso mezzanotte si ritirava, i miei tempi, adesso invece escono proprio a quell'ora. Poi d'estate i ragazzi si divertono molto 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 tardi, quindi l'una, le due, le tre. La musica dovrebbe essere spenta minimo alle due? Io direi spenta, diciamo anche un po' più moderata casomai, cioè non proprio spenta. Per esempio a quell'ora, se si abbassasse un po' il volume, si potrebbe continuare ancora a suonare, a ballare. Un appello all'amministrazione? Eh sì, veniteci incontro, quest'estate facciamo in modo che sia un'estate da non dimenticare.